Nessuna strategia per una trasformazione privatistica di Salerno Pulita e subito un ammodernamento dell'impianto di combustaggio magari realizzando una linea per la produzione di metano da utilizzare per alimentare i mezzi di servizio e da subito grandi parole di elogio per l'impegno di tutti i dipendenti. Si presenta così Enzo Bennett, 48 anni, il nuovo amministratore chiamato alla guida di Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta e della gestione del ciclo dei rifiuti nel comune capoluogo e che avrà in gestione anche l'impianto di compostaggio. Bennett prende il posto di Antonio Ferraro che ha scelto di dimettersi dall'incarico anche seppur è oggi l'assessore al bilancio del comune di Salerno Luigi Della Greca al termine dell'assemblea ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto dall'ex manager e ha ufficializzato la nomina di Enzo Bennett. Il nuovo amministratore di Salerno Pulita che siedeva nel collegio sindacale conosce bene la realtà aziendale nella quale andrà a guidare uomini e mezzi. Ha fatto parte del collegio sindacale quindi la realtà di Salerno Pulita non l'è nuova. Mi viene da chiederle se è più felice o preoccupato per questa nomina. Sono felice ed onorato quindi ringrazio l'amministrazione che mi ha indicato, ringrazio l'amministratore Antonio Ferraro che ha fatto un lavoro straordinario in un periodo difficile nel cosiddetto periodo del covid, della pandemia, del rischio della crisi sanitaria e vorrei ringraziare da subito anche i dipendenti che in questi giorni mi hanno già fatto sentire il loro affetto. Sicuramente è un'esperienza. Oggi chi lavora nelle partecipate deve avere molto coraggio. Il coraggio non ci manca, sono sicuro che se mi dovesse mancare ci saranno i dipendenti a supportarmi e darmi il giusto incentivo. Io penso che Salerno Pulita in questo anno ha risolto tantissimi problemi quindi penso che sia arrivato ormai il momento della crescita. Dobbiamo ragionare sempre più come azienda, il che non significa privatizzazione. Il nostro cuore è e resterà pubblico ma dovremmo tentare di crescere allargandoci a nuovi mercati, anche ad altri privati, utilizzando quello che la legge ci consente, vale a dire quel 20% di incremento dei ricavi anche nei confronti di terzi e nei confronti di altri enti. E la priorità ovviamente sarà l'impianto di compostaggio. L'impianto di compostaggio che grazie all'ottimo lavoro delle amministrazioni che si sono succedute a Salerno abbiamo la fortuna di avere, però è un impianto che non funziona. Di qualche giorno fa, insomma, l'articolo del Sole 24 ore dove ci dice che in Campania c'è una buona raccolta differenziata, però ovviamente poi se non si chiude il ciclo, vale a dire se non ci sono gli impianti questa raccolta differenziata serve a poco. Quindi noi dobbiamo lavorare da subito all'ammodernamento dell'impianto, un ammodernamento che deve mirare alla riduzione dell'impatto ambientale e all'aumento della produttività. Aumentare la produttività dell'impianto di compostaggio, magari aprirlo anche rispetto ad altri enti, significa risparmiare costi, liberare risorse, liberare risorse sia per ridurre la tarni dei cittadini e sia per avere la possibilità di garantire le giuste premialità dei dipendenti che ci aiuteranno ad offrire un servizio sempre più efficiente.